Si avvicina alla musica grazie al padre, direttore d'orchestra, inizia ad esibirsi nella sua città con il complesso i Double Faces, decide poi di trasferirsi a Milano, anche per frequentare la facoltà di giurisprudenza. E nel 1961 tiene dapprima un contratto editoriale con le edizioni musicali Isidee e poi un contratto discografico con la Meazzi, che lo fa debuttare l'anno successivo con una Begin Ragazzo Triste. Sempre nel 1962 partecipa alla Crociera delle Sette Note, insieme ad altri cantanti come Bruna Lelli, Paola Neri e Arturo Testa. Dopo una pausa dovuta al servizio militare e al successivo matrimonio con Rosa, insegnante, anche lei Tarantina, sua ex compagna di classe, da cui avrà una figlia, ritorna ad incidere e partecipa a un disco per l'estate 1964 con Il Rimorso, canzone di cui è autore del testo. La musica è di Claudio Valle e Gianni Fallabrino e che, pur non arrivando in finale, entra nella classifica dei dischi più venduti. Il successo si ripete l'anno successivo con Quando verrai per il tuo perdono che partecipa a un disco per l'estate 1965. Ritorna a questa manifestazione nel 1966 con Io ti dedico amore e, dopo il cambio di casa discografica, nel 1967 con, Come un giocattolo rotto mi butti via. Come fai tanto male partecipa nel 1965 al Festival di Pesaro. Nello stesso anno partecipa a Sette Voci. Il celebre programma televisivo ideato e condotto da Pippo Baudo. Con la voglia di vivere. In questo periodo lo accompagna il complesso I Cicisbei, che partecipa anche alle sue incisioni discografiche. Passato alla City, pubblica per questa etichetta nel 1968 il suo primo album, registrato insieme al complesso I Ricordi, che lo accompagna anche nei concerti. Continua l'attività discografica anche nel decennio successivo, fondando la Casa Discografica Musica Uomo, distribuita dalla CGD. Si trasferisce poi a Mantova e, a partire dagli anni Ottanta, si dedica per lo più al piano bar. Nel 1981 realizza un arrangiamento dell'aria sulla quarta corda. Il secondo movimento della suite orchestrale è N. Tre in Re Maggiore, di Iona Sebastian Bach, che viene utilizzata dalla Rai come sigla del programma televisivo Quark ed inserita nell'album, Guerrieri Eccellenti. Nel 1983 collabora con Gina Lagorio, scrivendo le musiche per la commedia della scrittrice piemontese Raccontami quella di Flick.